C'è attesa per i lavori allo stadio comunale Marco Tomaselli la realizzazione del manto erboso sintetico pare essere agli ultimi passaggi aggiudicata la gara d'appalto. Si attende l'inizio dei lavori sui quali rassicura l'assessore Marcello Frangiavone si potrà partire tra fine del mese di gennaio e gli inizi di febbraio. Condizioni meteo permettendo, sottolinea, perché spiega che il problema per intervenire nell'immediato è costituito dal terreno ad oggi troppo inzuppato dalle piogge, tanto da impedire l'intervento di rifacimento del manto. Infine l'assessore ribadisce l'apertura da parte dell'amministrazione comunale a concordare con le associazioni sportive che utilizzano l'impianto i tempi di intervento in modo da non compromettere la loro attività. L'intervento di rifacimento migliorerà il comfort e le prestazioni degli sportivi che ne potranno usufruire un campo con manto in erba sintetica di ultima generazione che permetterà di sfruttare al massimo l'impianto sia per il calcio che per il rugby.